Ciao tifosi bianconeri, benvenuti nel nostro canale dedicato a portarvi le migliori notizie della Juventus di oggi. Prima della notizia vi chiedo di iscrivervi al canale. E lascia un like al video. La fase della Juve non è stata più buona, ma dopo un'altra sconfitta in Champions, ha solo peggiorato le cose per Allegri e il consiglio. Tifosi arrabbiati e giustamente perché una Juventus così debole non si è mai vista. Con una vergognosa campagna in Champions e anche in campionato, la Juventus non riesce a trovare il suo calcio. E i tifosi della Juve chiedono una nuova direzione, un nuovo allenatore, poiché Allegri ha già avuto la possibilità di mostrare qualcosa. Ma ancora non ha mostrato nulla. E i tifosi pensano ha un nome per sostituire Allegri. E un nome che poi i tifosi vogliono è Antonio Conte. L'ex calciatore bianconero, oggi un grande allenatore è il nome preferito dei tifosi bianconeri, basta vederlo sui social. E siete d'accordo che Antonio Conte sia il nome migliore per sostituire Allegri? Dimmi la tua opinione. Oh e lascia un like al video. Ok grazie.